Raga, avete visto il trailer? Spero perché vi giuro fa crepata la risata il delirio totale, puro, semplice, scevero da ogni logica, sti carnosauri a spasso a mangiare la gente per le tranquille piazzette di Malta, i carnosauri a Malta come ci sono arrivati con la Ryanair, i tirannosauri Wyoming e veloci Raptor a Los Angeles, ma andiamo con calma. Passo a passo, benvenuti su Watchmen Italia per una top 5, dettagli più assurdi e folli che potreste non aver beccato nel trailer del terzo e per fortuna ultimo capitolo della saga di Jurassic World, Dominion, uscito ieri, il film esce a giugno mi pare, allacciate le cinture di sicurezza che però, secondo la mia solita teoria del forza di volontà pari a zero, che fai? Non ci vai a vederlo, ma certo ci vai come al solito, almeno si ride però. Quindi andiamo, ma prima attivate la campanellina degli avvisi, mi raccomando, altrimenti stanotte mi sentite fuori casa vostra, tipo co, co, altro che i veloci Raptor del primo film, mi massacro. Per Diana, alla numero 5 abbiamo i Dini, sembrano un po' più scientificamente accurati, visto? Un delirio assoluto, ma rispettoso dei dettami della scienza moderna e delle nuove scoperte, giustissimo. Ora, non sto qui a dirvi che Jurassic World sarà un trattato di paleontologia, anche perché abbiamo un brontosauro nello Wyoming che o more dopo tre secondi, che si vede in scena per ipotermia, poraccio, non lo so, ma ok. Considerando che nel secondo Jurassic World viene spiegato l'errore estetico, diciamo, fatto a suo tempo da Jurassic Park, dei dinosauri con le squame, la pelle dura e non le piume, che però sono stati progettati in laboratorio, quindi per giustificare la cosa dicono che l'hanno fatti un pochino come gli pareva senza ricercare il realismo, molto conveniente a livello di trama. A sto giro vediamo invece anche un pochino di grossi polli incazzosi, con tante belle piume colorate, un Deinonico alla fine, perché vi ricordo che il veloci Raptor non è veramente, teoricamente grande, in quella maniera i veloci Raptor erano dei piccoli tacchini arrabbiati, i Deinonichi invece erano la versione oversize, e un qualunque cosa sia piumato che insegue quell'errore, insomma, questa è una cosa carina. Mi chiedo però, alla numero 4, Baby Blue, e vi spiego subito la cosa che mi chiedo, Baby Blue, la figlia della mascotta della saga, ossia l'amichevole Raptor di quartiere, che è la vera protagonista della serie perché più sveglia di tutti i protagonisti messi assieme e toglie le castagne dal fuoco ogni volta, ritorna, come vediamo, perché alla fine del 2 è scappata a Los Angeles per rifarsi una vita a Beverly Hills, ma evidentemente il vicinato non ha credito molto. Se ne va quindi nelle nevi con sua figlia, esatto. Peccato che il dettaglio che potreste non ricordare è che Blue era da sola. Cioè, per questo io dicevo, alla fine del 2, che genere di pericolo minaccia dovrebbero rappresentare? Sono fuggiti un Raptor, un T-Rex, un Mosasauro, un Brachiosauro, un Brontosauro e un po' di sbrimbrisauri di lì quegli altri simpatici e innocui, no? E? Capisco il Mosasauro che ha spasso per gli oceani, magari, toh, un paio di transatlantici te li tira giù, quindi, minimo di casino lo fa, ma nulla che non si possa risolvere. Il resto? Cioè, ci siamo scordati che siamo 8 miliardi contro 5 e abbiamo una cosa chiamata carra armati? Cioè, i dinosauri sono grossi e duri, va bene, ma scommettiamo che se a un T-Rex gli spari addosso una testata termonucleare, un attimino il colpo l'accusa, eh? Ma giusto un pochino, eh? Quindi, non aveva senso, come premessa, però questi hanno figliato. Cosa? Come? Come dice Malcom, la vita trova sempre la via. E mi chiedo quale sia la spiegazione per la vita che trova la via in questo film. Con la riproduzione assessuata? Per partenogenesi? Ci sta, va bene. Ma che si sono evoluti in quel senso nel giro di una settimana? Come è possibile? Comunque Baby Blue è pucciosissima. E chiaramente, commettiamo che sarà lei a salvare la situazione in questo film, ma vi giuro, tutto ci scommetto. E alla numero tre, un po' di citazioni più o meno evidenti. Si parte subito con Owen che, oh Dio, Owen si chiamava, sì, Owen. Mentre Alan, smonologa dietro, accarezza sul muso stupefatto il dino di turno, un po' come appunto Alan Grant appena arrivato al parco fa nel primo film. Poi c'è un richiamo, infatti, anche alla scena madre della saga, ossia il si muovono in branchi quando la ragazzina, Maisie, e un gruppo di taglialegna si mettono a guardare il brontosauro con la musica dietro. Poi, tra l'altro, c'è una scena che mi viene da ridere anche quella, c'è presa così fuori contesto, no? A parna barzelletta. Allora, ci stanno una bambina, un operaio dell'industria del legname e un brontosauro. Si vede poi il mitico dilofosauro che non si sa da dove scappa fuori anche lui, perché di sicuro non c'era tra i fuggitivi del due, quindi, che è? Allora, spuntano dalla terra come i nani, i dinosauri. E poi il classico, dei classici, richiamo al terzo film con Alan e il suo tormentone al quale nessuno dà mai retta, ossia... E alla numero due, la fine di un'era, viene detto, che significa che finisce la saga come dicevo prima? Piccoli, dolci, ingenui, non lo credevate mica sul serio? Ci speravate, forse, ma ormai il mondo reale si è sovrapposto a quello fittizio, lo sapete, e si è visto che i dinosauri, veri o in CGI che siano, fanno fare i proverbiali mucchi di Vildanaro, e quindi la Universa l'ha appena annunciato, che sarà la fine di un'era, sì, Ma non in quel senso emotivo che gli uomini gli danno, no, no, per essere precisi sarà la fine del periodo intermedio dell'era mesozoica, altresì noto come giurassico, nel senso che finisce la trilogia basata sul Jurassic Park, ma poi ce ne sta un'altra, che credete? Il Triassic Park, questi fanno, o anche il Cenozoic Park, se gli gira bene, con i mammut geneticamente modificati per avere motoseghe al posto delle zane, Ora, tecnicamente non è manco la fine del Jurassic Park e basta, dovrebbe essere la fine dell'Alf Cenozoic Alf Jurassic Park, visto che i dinosauri l'hanno buttati tutti quanti assieme senza distinzioni, come vi avevo detto a suo tempo, ma comunque ci siamo capiti, no, come gira? E alla numero uno la classica reunion, che finisce male, con controcitazione però, e ovviamente tutti assieme per il nostalgia factor fondamentale, Alan, Ellie e Ian, che finiscono con Owen e compagna Bella, ora ve le chiamo tutte, Ci sarà la classica scena omaggio alle vecchie glorie, tipica, quella, no, Alan, Alan Grant? Ma lei è quella, Alan Grant? Oh mio Dio, è un onore, non è impossibile lui! Sì, sì, ragazzo, poi si scalza un po' tutto scorbutico, poi uno di loro si sacrificherà per il gruppo nel finale, considerando che hanno scritto sia Ian che Alan sulla fronte, sono un vecchio scongelato dal surgelatore alla Ian solo per fare presa sul vecchio pubblico nostalgico, ma utilizzabile come token temporaneo da far poi drammaticamente crepare per i Filz e i Cash Money? Tutto questo hanno scritto in fronte, eh, se vedete è molto piccolo, ma se zoomate si legge poi citazione di Ian Che cita Jeff Goldblum, cioè se stesso, in Independence Day 2 Che cita Jeff Goldblum, cioè se stesso, con la stessa battuta in Independence Day 1 Che cita Jeff Goldblum, cioè se stesso, non la stessa battuta, ma quella da cui nasce tutto quanto sia Questa sì che è una bella montagna di merda E insomma, e insomma, e insomma Che cita Jeff Goldblum, cioè se stesso, con la stessa battuta, ma per la stessa battuta, ma per cappare. Grazie a tutti.